Prima il Washington Post, adesso Fox News e CNN, dopo una conferenza stampa di Trump, hanno confermato che il virus Covid-19 viene da un errore di laboratorio di Wuhan. Il famoso laboratorio di Wuhan aveva un tecnico che ha sbagliato e ha fatto scappare questo video. È successo il 2 dicembre, uno di questi tecnici esiste, è testimone e non è in Cina, ma è, credo io, a Taiwan. E da lì ha anche confermato. Naturalmente questa conferma crea un mondo del tutto diverso. C'è un braccio di ferro enorme tra la Cina e gli altri paesi. La Cina non l'aveva mai ammesso e anzi ultimamente aveva stretto anche i controlli. Gli Stati Uniti, che hanno sempre detto virus cinese, ora si sentono danneggiati. Anche perché dal 2 dicembre al 20 gennaio, giorno in cui la Cina ha ufficialmente riconosciuto il virus, sono passati due mesi. Quindi la Cina si è molto avvantaggiata di questo tempo, in cui gli altri paesi non hanno potuto dichiarare la pandemia, non si sono attrezzati e ora i cinesi usciranno forti in economia quando il resto del mondo avrà ancora l'acqua alla gola. Buona giornata da Paolo Liguori.